Se conoscete l'italiano e se volete esercitarvi a parlarlo, la BPI vi dà appuntamento il primo e il terzo lunedì del mese, tutti i mesi, per poterlo praticare all'occasione di un atelier di conversazione animato dai bibliotecari della BPI. Per un'ora la biblioteca vi invita a uno scambio conviviale con un bibliotecario bilingue. Attenzione, questo laboratorio non è un corso di lingua ed è consigliato alle persone che hanno già delle basi di italiano. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito internet.